Buonasera, bentrovati alle TG Med Sport, le convocazioni di Giuseppe Iachini per la sfida contro il Bari domani alle 15 alle Barbera. Non c'è ancora una volta Andrea Belotti, che aveva disputato un amichevole in questa settimana. Tra l'altro è arrivata per lui anche la convocazione dall'Under 21 di Luigi Di Biaggio per la partita di qualificazione ai campionati europei di mercoledì prossimo. Tutto sembrava lasciar pensare ad una convocazione anche per la sfida contro il Bari, invece Belotti non c'è. C'è invece Di Bala, ovviamente Morganella, che rientrerà soltanto fra un paio di mesi dopo l'operazione per la riduzione delle sette fratture al volto. Ci sono Maresca e Lazare che rientrano dalla squalifica, quindi formazione, possiamo definirla tipo per Giuseppe Iachini, che presenta così la sfida contro il Bari, parlando anche della settimana particolare che la società Biancorossa e la squadra hanno vissuto e poi soprattutto gli ricordano che un girone fa di fatto sarebbe subentrato. Poi dopo la sfida proprio di Bari ha tracciato anche un bilancio, ascoltiamo. Belotti non è convocabile, quindi non è un ragazzo. Questa settimana ha provato parlando con la squadra avversaria in una partitina infrasettimanale, quindi con i ragazzi della primavera, abbiamo chiesto che in quei 20 minuti, in quarto d'ora che ha giocato, 18 minuti che ha fatto lui, di preservare, di osservare anzi massima attenzione nelle entrate, in quello che poteva essere dei duelli, dei contrasti, delle situazioni insomma pericolose, per non andare ovviamente a ricreare delle situazioni di svantaggio o problematiche ulteriori. Nel venerdì della scorsa settimana è stato fatto un accertamento diagnostico dove servivano altri 10 giorni di terapie e di quant'altro e quindi questi 10 giorni scadono martedì e mercoledì prossima settimana. In questo senso verrà fatto poi martedì prossima settimana un ulteriore, ultimo speriamo accertamento dove eventualmente potrà iniziare a riallenarsi sempre in maniera graduale con la prima squadra. So benissimo che in queste situazioni scattano una compattezza anche ambientale, perché vai a vedere ieri al campo hanno avuto in settimana oltre 500 tifosi che sono andati ad appoggiare la squadra, fra di loro ovviamente nel gruppo squadra si si compatta di più per superare certe difficoltà ma anche perché si vuole far vedere all'esterno che Bari come lo è una piazza appetibile per quello che può essere un eventuale acquirente che può presentarsi all'offerta. Quindi al di là di questo il Bari ha battuto il Pescara nell'ultima partita casalinga, ha fatto delle ottime partite, ha battuto altre squadre nonché anche noi all'andata e quindi è una squadra che si conosce bene, ci sono ragazzi giovani molto interessanti che giocano insieme da più anni e quindi ci sarà da fare una grande partita. C'è stato un percorso, un grande percorso di crescita sicuramente, ma un grande percorso anche sul piano dei risultati perché poi quando passi dal dodicesimo posto, quello che era, tredicesimo posto, arrivi primo, se ci avessero detto a cinque giornate del girone di ritorno che saremo stati a cinque punti barra sei perché in questo momento barra sei in virtù del fatto che col Cesena abbiamo uno sconto diretto in vantaggio quindi siamo cinque barra sei punti di vantaggio sulla terza in classifica, beh ci avremmo messo tutti una firma grande come una casa, avremmo fatto i salti mortali all'indietro perché potesse essere una cosa vera. Ci stiamo riuscendo, sicuramente abbiamo la consapevolezza e questo è un dato molto positivo che qualche punticino in più per quello che abbiamo prodotto, per quello che questa squadra ha fatto sul campo potevamo avere in più, ma che non è frutto di una mancanza di occasioni create, non è frutto di una mancanza che siamo venuti meno, anzi siamo molto cresciuti sul piano del palleggio, del possesso, della conoscenza, dell'andare a braccare la porta avversaria con maggior uomini, maggior arrivo sugli esterni, maggiori conclusioni quindi abbiamo tutti questi dati in grande crescita e è chiaro che ci manca un po' più di concretezza che ovviamente questo campionato richiede. Presidente Zamparini in visita alla squadra, un modo per caricare ancora di più l'ambiente un paio di parole scambiate non soltanto con alcuni giocatori, Lafferty in particolare ma anche e soprattutto con il tecnico Beppe Iachini, dunque anche Zamparini si è voluto far sentire in questa vigilia di una sfida fondamentale, così come importante per la classifica e anche lo scontro diretto possiamo definirlo così, tra Cesena e Trapani, terza contro quarta con Boscaia che chiede ai suoi grande attenzione. Noi andremo a Cesena per andare a fare risultato pieno, per andare a vincere avendo anche poco da perdere, nel senso che andremo lì per andarci a divertire per andarci a godere lo stadio e soprattutto per andare a vincere quindi diciamo che se c'è un po' di pressione è una pressione positiva, quella su di noi e su di loro è una squadra che è costruita per vincere e ancora in classifica non è tra i primi due posti Diamo uno sguardo a trmweb.it nella sezione sport andiamo in Serie A parlando delle Catania, il Catania che sfida il Genoa a Marassi si gioca grandi possibilità di continuare la lotta salvezza e allora le parole del portiere del Catania Mariano Anducar a Verona partita persa contro il Chievo per 2-0 dove si sono fatti registrare di fatto i passi indietro per la formazione di Maran a Verona atteggiamento sbagliato detto Anducar però ha parlato anche della sua situazione al Catania del fatto che di fatto sarà un portiere delle Napoli a partire dal primo luglio di quest'anno dunque ascoltiamo insieme le parole di Mariano Anducar Contento di non giocare, non posso stare mai No, 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 dico, può succedere sono scelte che l'allenatore sempre deve fare e quindi vengono rispettate come sono non ho fatto anzi nessun problema mi sono allenato comunque benissimo ho aspettato la mia opportunità di nuovo poi anche di accordo con Angelo ho deciso anch'io di non parlare perché la situazione non era chiarissima per il fatto del Napoli e tutto quanto che l'ho detto lui che non vuole parlare perché mi sembra e mi è sembrato in quel momento una mancanza di rispetto verso verso la città che da tante anni sono qua quindi io preferirei non parlare di quello allora l'aspetto calcistico capita ogni allenatore fa le sue scelte e vengono rispettate come tale Chiudiamo la pagina delle calcio apriamo quella della pallavolo con l'Andros Palermo in serie B2 femminile che battendo 3-1 l'Effe Volley ha portato a più 8 il suo margine di vantaggio dalla zona salvezza anche se la salvezza ancora non è raggiunta un'altra settimana di sosta l'ultimo turno di sosta prima poi di riprendere senza più fermarsi il girone di ritorno il campionato questa ultima fase di stagione nella quale l'Andros vuole togliersi magari anche qualche altra soddisfazione ascoltiamo i protagonisti purtroppo non abbiamo potuto dimostrare il meglio di noi anche per i problemi fisici però ora diciamo siamo in parte tutte abbastanza riprese diciamo senza quei problemi possiamo dimostrare quanto valiamo ancora di più non c'è questo ostacolo dei problemi fisici e possiamo farci valere ancora di più quindi sì guardiamoci indietro guardiamo anche avanti adesso perché le squadre siamo tutte lì siamo racchiuse in pochissimi punti quindi giochiamocela con tutti senza paura o timore di valenziale verso nessuno lavoreremo in palestra per trovare nuove energie nuova voglia, nuova vena e saremo pronti qua fra 15 giorni per affrontare una delle squadre che secondo me arriverà poi nei primi tre posti che è il Pedara di Nabaldi che ha delle grandissime individualità e quindi anche quella è una partita che ci teniamo a vincere all'andata abbiamo perso 3 a 2 è stata una gran bella lotta quindi in casa sicuramente faremo faremo almeno meglio sotto il punto di vista dell'impegno vi ricordo che tutte le edizioni del TG Med Sport le potrete rivedere sul sito trmweb.it o ci sono altre notizie grazie per essere stati con noi e arrivederci Panificio Badalamenti infinite specialità da gustare arancine, un euro pizze familiari, a soli 5 euro Panificio Badalamenti Panificio rosticceria, pizzeria dolci classici e moderni Panificio Badalamenti sacca tubana, un tennipenti via Francesco Crispi numero 290 a Palermo infoline 388-9088-192 Pag.it